La priorità di Piero Braia resta l'Avellino. Il tecnico di Grosseto incontrerà il presidente D'Agostino per discutere del futuro e per capire se ci sono i presupposti per andare avanti insieme e migliorare l'attuale progetto tecnico. Subito dopo il K contro il Padova, il trainer bianco-verde ha fatto intendere che per alzare l'asticella servono i nesti importanti da inserire in un gruppo comunque valido. Nel frattempo però l'esperto allenatore, secondo indiscrezioni provenienti dalla Calabria, avrebbe ricevuto una chiamata dal Cosenza. Patrone Eugenio Guarascio vorrebbe riportare Braia in maglia rosso-blu e tra i due ci sarebbe stata una telefonata proprio dopo lo stop contro i Veneti. L'ingaggio dell'attuale tecnico dei Lupi rappresenterebbe per il padrone dei calabresi un motivo per far pace con l'ambiente. Infatti i tifosi rosso-blu non hanno mai dimenticato l'esperto allenatore toscano, artefice dell'ultima promozione in cadetteria. E' chiaro che come per l'Avellino, qualora dovesse optare per un ritorno a Cosenza, anche lì chiederà garanzie importanti per accettare il progetto. La prossima settimana sarà decisiva per il futuro dell'esperto allenatore, ma non escluso che un tecnico preparato come lui possa far gola ad altri club DC.